E visto che sono una brava persona vi faccio vedere cosa voglio inserire come meccanica nel gioco Allora, volo non avrà più la funzione solita, cioè sarà un attacco normale e basta Perché? Perché ho voluto fare una cosa molto alla Fire Emblem Awakening Ovvero uno spostamento diretto sulla mappa del mondo, vi faccio subito vedere Allora, il teleport system non è ancora in funzione perché deve essere attivata una flag che metterò più avanti nel gioco Attivata la flag, perché sì, possiamo utilizzarlo La prima volta che parlerete, parlerete E leggerete il cartello, si registrerà il luogo, cosa significa? Che potete tornare in questo luogo se usate la world map Mentre ad esempio se voglio tornare alla prima città, devo prima tornare alla prima città e attivare lì il teletrasporto Vi faccio vedere E voilà! Questa è pressa poco la world map non definitiva, perché devo mettere a posto un po' di cose Ad esempio, che ne so, se clicco col tasto X su quella città non posso andarci perché non l'ho ancora registrata Stessa cosa vale per Sunshine City che è questa Mentre questa è Downcliffe Town E questa è Valley City Infatti, Valley City l'ho registrata come avete visto Se ci clicco Mi riporta qui Ta-da